Signor Cagnete, l'Unione Europea finora ha avuto poca attenzione alle abitudini dei consumatori che sono invece riconosciute come fattore di grande importanza per la lotta alle emissioni climalteranti e per il risparmio energetico. Grazie ad uno studio Oxe già dal 2008 è noto che le decisioni relative all'80% dei consumi domestici, energia compresa, vengono presi dalle donne e che le donne ne usano molta di meno, ad esempio perché usano spesso i trasporti pubblici. Lei si sente pronto a rimediare le sue note e passate affermazioni discriminatorie nei confronti del genere femminile attraverso un approccio innovativo alle politiche climatiche ed energetiche che tenga conto dell'importanza fondamentale delle donne nella lotta al cambiamento climatico e al risparmio energetico? Si sente pronto ad avere un approccio ugualità egalitario nei confronti delle sue colleghe donne che siederanno in commissione e delle associazioni ambientaliste spesso presidute da donne che incontrerà? Grazie. Nel mio discorso iniziale io ho già affermato di credere senza mezzi termini che la parità tra i sessi sia un pilastro fondamentale per costruire un'Europa più giusta, più inclusiva, più prospera. Io credo fermamente nella parità tra i due sessi e quando ho rivestito responsabilità politiche e molti deputati spagnoli qui lo possono confermare, ho sempre dato posti di massima responsabilità alle donne. Nella pesca, la signora Fraga era con me al Ministero ed era responsabile della pesca, ma anche in agricoltura. Il cambiamento climatico in Spagna è affrontato da una donna, le valutazioni ambientali sono affidate a una donna, quindi io sono ben consapevole dell'importanza della figura della donna in posti decisionali e in politica. Ho sempre praticato questa mia convenzione e la mia traiettoria politica lo dimostra. Detto questo, sono ben consapevole, avendo letto le vostre relazioni della posizione e degli effetti del cambiamento climatico sulle donne. C'erano molti esempi e si parlava della necessità di porre figure femminili in organi decisionali per elaborare le politiche contro il cambiamento climatico. Così, come si diceva che il cambiamento climatico colpisce in particolare le donne in Africa, vista la loro attività economica. Lei giustamente ricorda questa preoccupazione circa la figura delle donne nei processi decisionali e io le ricordo, ribadisco che nel mio gabinetto rispetterò la parità di genere, il mio chef de cabinet sarà una donna e farò sì che la parità di genere sia un principio anche nelle direzioni generali. Comunque faccio mio l'impegno del Presidente Juncker circa la parità di genere nel mio gabinetto.